Mi chiamo Carlo Bonini, sono un giornalista del quotidiano La Repubblica, scrivo cronache e facendo questo mestiere mi è capitato di occuparmi di cose molto diverse le une dalle altre, ma che hanno un unico comune denominatore, sono storie complicate, a volte di potere, a volte di sangue, a volte di uomini e donne che vivono nelle pieghe di un paese che si è fatto molto complicato. L'ultimo libro che ho scritto si chiama Acab, tutti i poliziotti sono bastardi, è un acronimo di una canzone skin della fine degli anni 70. Il libro è nato per una curiosità, era la curiosità di provare a raccontare la vita, la storia di tre celerini, non tre celerini qualunque, ma tre celerini che sono stati protagonisti tra il 2001 e i giorni nostri di vicende cruciali dell'ordine pubblico in questo paese. Erano tutti e tre nella scuola di IAZ a Genova nel luglio del 2001, sono allo stadio olimpico nella notte in cui si scatena la rabbia dei romanisti e dei laziali per la morte di Gabriele Sandri ucciso da un poliziotto sull'autostrada del Sole. Sono a Napoli nei giorni della rivolta di Pianura per l'immondizia. Sono a Roma nei giorni in cui viene assassinata in modo bestiale di Giovanna Reggiani da un cittadino rumeno e quindi incrociano ai bordi della città raccogliendo i migrati da avviare all'espulsione. Erano e sono a mio modo di vedere tre testimoni privilegiati, politicamente scorretti perché sono tre poliziotti di destra che non nascondono, non fanno mistero solo delle loro idee ma anche della cultura di cui sono figli. Forse al termine di una parabola che gli ha resi vecchi prima del tempo dimostrano di aver compreso alcuni meccanismi del loro mestiere, ma più che dire del loro mestiere dell'odio che contagia la nostra quotidianità decidono che è venuto il momento di parlarne. Ho pensato che il modo migliore, forse più onesto, più trasparente per restituire le loro storie, fosse quello di provare a fare un passo indietro e un passo di lato, cioè lasciare che parlassero i fatti di cui erano stati i testimoni, le loro riflessioni, i loro pensieri. Questi tre poliziotti mi hanno consentito di fargli da ombra e quindi di osservare le loro giornate, le loro reazioni, di raccogliere i loro sfoghi, ricostruire le loro conversazioni. Quando il libro è uscito erano legittimamente preoccupati e a un certo punto sono stati anche spaventati dalla prima reazione che questo libro ha avuto nel loro mondo, nel mondo del reparticele, perché i tre sono stati considerati dai più, non da tutti, ma almeno all'inizio degli infami. Avevano aperto la porta di un mondo che non solo normalmente non ama vedersi raccontato, ma che ha nel silenzio e nella diffidenza per l'indagine e per l'esposizione giornalistica uno dei vincoli fondanti. L'ostacolo maggiore a questo libro è stato me stesso, nel senso che nel tempo ho assorbito, mi sono formato non solo un'opinione, ma anche un vissuto di queste vicende e lo sforzo è stato quindi resistere alla tentazione in certi momenti di ascoltando certi dialoghi o leggendo i forum nelle chat, di non girarmi dall'altra parte o di non farmi prendere la mano dalla rabbia o dall'indignazione o dallo sconforto. L'ambizione era quella di togliermi di mezzo da questo libro, scriverlo togliendomi di mezzo, anche a costo di essere poi in qualche modo da alcuni lettori, da alcuni colleghi, accusato di non voler prendere una posizione, di non voler esprimere un giudizio. La vicenda che io avevo deciso di raccontare era talmente forte nei fatti che restituiva che ho pensato che andassero premiati quei fatti e andasse messa in un angolo le mie emozioni. I tre protagonisti a un certo punto vivono lo shock di una rivelazione, cioè che la matrice della violenza che loro si trovano a fronteggiare nelle curve, sull'orlo di una discarica, nei pattuglioni che devono ripulire la città dei clandestini, è la stessa matrice di politica e culturale di cui loro sono figli. La sensazione è più di una sensazione che ho avuto osservando la vita di questi tre uomini, quella dei loro colleghi e di professionisti dell'ordine pubblico, peraltro sicuramente molto più attrezzati professionalmente e tecnicamente di quanto non lo fossero i poliziotti in Italia o i carabinieri nei primi anni 70, ma assolutamente drammaticamente più soli. Molto più simili ai loro antagonisti, perché di fatto figli dello stesso tempo, con desideri e aspirazioni esistenziali identiche spesso a quelli di chi fronteggiano nelle piazze, ma assolutamente soli, cioè privi di quel senso di appartenenza a una collettività.